Consolidare la strategia comune adottata per le comunità costiere del Mediterraneo in linea con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite è questo l'obiettivo di un mare di dialoghi. L'evento, giunto alla sesta edizione, è tenutosi il 29 e 30 giugno a Tricase, nel Salento. L'appuntamento è stato organizzato nell'ambito di NEMO, progetto finanziato dalla cooperazione italiana. Sentite. Abbiamo avuto l'occasione di presentare il progetto NEMO, un programma di cooperazione internazionale supportato, finanziato, sostenuto dalla cooperazione italiana che tende a promuovere una gestione integrata tra le zone costiere del Mediterraneo per cercare di valorizzarne il loro tessuto sociale, economico, ambientale attraverso interventi di sviluppo sostenibile e che ha avuto un ruolo importante in questa città di Tricase per la partecipazione attiva della sua comunità a tutte le fasi progettuali. Oggi c'è stato questo grande riconoscimento dell'ecomuseo. Io, è stata una coincidenza anche strana, due anni fa inaugurai questo museo del mare, bellissimo, fantastico. Noi porteremo in giunta appunto questo riconoscimento e cercheremo di proseguire in questo percorso. Poi, come dire, oggi abbiamo anche, c'è stata questa iniziativa straordinaria che ha visto sette paesi del Mediterraneo confrontarsi, dialogare. Un altro progetto importante perché dialogare vuol dire costruire percorsi, integrarsi e cercare in qualche modo di dialogare e costruire azioni che sviluppino appunto il territorio.